Vi voglio raccontare una storia di un locale sopra la montagna Erano all'incirca le 5 della mattina Quando i locali giù in riviera erano tutti chiusi Ad un certo punto Sono arrivati loro Quelli che ballano alla commerciale Quelli che non mangiano per non cagare Quelli che non ballano per non sudare Sono arrivati loro Quelli che ci guardano con la faccia schifata Quelli che si vestono da fighetti e vanno in giro con i macchinoni Sono arrivati qua al Domina Era un sabato notte come tanti E poi hanno sentito la nostra musica Hanno percepito il nostro ritmo Hanno sentito le vostre mani battere Su le mani Questo è il Domina Pasqua d'Italia Zenit è il Parese Grazie a tutti quanti voi Siete i numeri uno Zenit Alvarez Grazie a tutti Grazie a tutti